Cari amici ben arrivato a un nuovo episodio della rubrica imparare guardando se è la prima volta che guardi questa rubrica sono una serie di video in cui cerchiamo di imparare qualcosa osservando le fotografie dei fotografi più o meno conosciuti, alcuni famosissimi, alcuni meno insomma si può imparare praticamente da tutti se si ha la volontà e l'umiltà per farlo oggi parliamo di un autore di cui abbiamo già parlato nel nostro canale di Larry Tawel e in particolar modo vediamo un libro I Mennoniti, ne avevo appunto già parlato durante la puntata in cui analizzavamo il lavoro di Larry Tawel ma ci tenevo a farvi vedere questo libro un libro veramente stupendo, un po' costoso, non facilissimo da trovare ma sicuramente fantastico, è un libro che in qualche modo mi fa venire in mente la riflessione che fesci un po' di tempo fa sul, provate a cercare nella playlist riflessioni fotografiche in cui parlai dell'importanza di trovare qualcosa da raccontare effettivamente la macchina fotografica è uno strumento potentissimo per raccontare la nostra vita, la vita delle altre persone, per raccontare dei momenti storici per raccontare anche il lavoro di un artigiano, il lavoro di un'azienda insomma è un strumento fantastico per raccontare e soprattutto per ricordare quindi la capacità che dobbiamo sviluppare è quella di cercare soggetti che hanno valore e che ha senso ricordarli nel tempo e questo è quello che ha fatto appunto Larry Tawel un lavoro fantastico sulla comunità religiosa, sulla setta possiamo così definire la religiosa dei Mennoniti, è una religione che deriva, è una setta che deriva dalla dalla religione protestante ma che insomma ha rifiutato tutte le comodità e anche gli anestetici apro e chiudo parentesi della vita moderna quindi non c'è elettricità, non c'è acqua corrente vivono praticamente di agricoltura, sono per riuscire a mantenere il loro stile di vita che è molto simile agli Amish hanno dovuto praticamente emigrare in diverse parti del mondo Larry Tawel si è concentrato sulle due grosse comunità nell'America del Nord in Canada, vicino all'Ontario dove lui tra l'altro vive e quindi ha potuto entrare in contatto con loro per questa ragione e poi in Messico dove mi sembra ci sia la comunità più grande e in circa dieci anni ha raccontato appunto la loro vita sia appunto in Canada che in Messico quindi quello che vedete nel libro I Mennoniti è praticamente il risultato di dieci anni di relazione con questa comunità. Allora Larry Tawel è un personaggio, un fotografo della Magnuma ma a prescindere insomma che sia della Magnuma che a me ha colpito molto perché ha un modo di raccontare tutt'altro che scontato, cioè riesce nelle sue foto, poi lo vedremo fra poco a unire una grande capacità di documentazione narrativa ma al tempo stesso con una grande poesia una poesia sottile però non è qualche modo, non ci sono immagini retoriche un po' così dolciastre sono tutte immagini amare ma che a volte la prosa sapete bene diventa più poetica della poesia stessa quindi un modo di raccontare unico, un modo di raccontare non affatto banale quindi a volte le immagini sono sgrammaticate, utilizzo questo termine, sono un po' particolari ma sono molto molto d'impatto, molto efficaci. Apprezzo molto di questo libro anche come è stato realizzato nel senso che la cura con la quale è stata realizzata allora io direi a questo punto andiamo a vedere le foto, analizziamole e cerchiamo di imparare qualcosa allora eccoci qui con il libro, i menoniti, Larry Tawel, molto bella, vi faccio notare alcune particolari il segnalibro, non so se riuscite a vederlo come le bibbie e vi faccio vedere anche all'interno eccole qui, ci sono praticamente queste pagine di carta molto sottile proprio che ricorda diciamo le bibbie, quindi l'attenzione anche alla qualità editoriale con cui è stato creato questo libro allora andiamo a vedere qualche immagine, andiamo a analizzarla allora io direi di partire da questa foto, foto stupenda, me lo sentirete dire parecchia volte perché sono innamorato insomma di questo libro per cui perdonatemi allora bellissima foto, grande forza narrativa, vedete praticamente la mamma sotto qui in basso che sta lavorando ai campi insomma in agricoltura e c'è la bimba che ovviamente non è che ci sono le babysitter che segue insomma il lavoro della mamma e dorme praticamente sopra un piccolo materasso improvvisato di fatto con le giacche insomma degli adulti, un po' come avveniva tanti anni fa però guardate la bellezza anche di questo bianco e nero il bambino, la posa del bimbo questi contenitori per ortaggi che fanno da cornice un po' da quinta al bimbo giochi di chiaroscuro, guardate com'è bello la mano e la capacità di Larry Tawel insomma non solo di concentrarsi qui cioè la foto non finisce qua che molti avrebbero fatto questo invece ha chiaramente contestualizzato e ha raccontato ha fatto in modo che questa foto raccontasse una storia e un modo di vivere appunto dei menoneti ecco un'altra immagine a doppia pagina in questo caso vedete che c'è una costruzione diciamo triangolare si gioca anche un po' sui riflessi insomma dei volti e qui chiaramente Larry Tawel racconta che la famiglia dei menoneti sono famiglie come avvenivano da noi tanti tanti anni fa molto allargate perché il lavoro è un lavoro nei campi e nei campi servono ovviamente le braccia per lavorare è una famiglia in cui il ruolo centrale è chiaramente quello della figura maschile in secondo piano vedete c'è la figura femminile poi insomma la prima figlia, tutti i bambini vedete che insomma i bimbi praticamente quasi tutti guardano in camera quasi ne sono rile insomma una bellissima costruzione anche dal punto di vista compositivo vedete come la ragazza al centro dell'immagine è uno elemento chiaro su sfondo scuro e poi contestualizzato da questa porta che funge da cornice profondità di campo sufficiente probabilmente qui gli spazi hanno anche ristretti insomma uso del grand'angolo, profondità di campo per avere quasi tutti i soggetti a fuoco insomma tranne questo bimbi che è appena fuori fuoco e che sinceramente dà anche quella sporca un pochino l'immagine e la rende ancora più vera, più autentica questa è una cosa che mi piace molto delle immagini di Larry Tawel non sono mai perfettissime dal punto di vista compositivo secondo l'accezione classica della composizione insomma tutto in bolla, tutto preciso ecco c'è sempre un po' questo uso un po' sgrammaticato tra virgolette della composizione qui vi faccio vedere un'altra foto una foto insomma Larry Tawel è sul carro il carro è il mezzo di trasporto insomma dei Mennoniti insomma i cavalli con il carro sono il mezzo di trasporto dei Mennoniti e qui vedete profondità di campo molto lunga la Tawel lavora sempre molto molto sulle prospettive vedete l'uso delle prospettive anche perché insomma è agevolato proprio dall'utilizzo del grand'angolo di un utilizzo di un grand'angolo 28-35 mm e lavora con l'iperfocale quindi lavorando praticamente in iperfocale non hai assolutamente bisogno di mettere a fuoco e quindi riesci a cogliere questi momenti che sono un attimo, che sono una frazione riesci veramente a cogliere insomma il momento decisivo questo è uno dei grandi plus dell'iperfocale con fotocamere diciamo manuali o ottiche che permettono appunto di regolare l'iperfocale questa è un'altra foto famosissima insomma di Larry Tawel è veramente molto molto bella insomma questo vento che crea vedete tutta questa polvere insomma un po' di foschia e la posa perfetta, il momento perfetto di queste donne che cercano di ripararsi con i cappelli dal vento che sono appena uscite insomma dalla messa è veramente bellissimo questa immagine, è stupenda allora i Mennoniti come ho già detto come sapete insomma vivono senza acqua corrente senza elettricità e quindi la luce che arriva è la luce naturale delle finestre ed è la luce della sera insomma delle candele, delle lanterne e proprio l'utilizzo della luce naturale ha permesso in Larry Tawel di creare queste meravigliose bianche e neri con dei chiaroscuro e fantastici insomma il panno bianco e il volto della bimba illuminato da questa finestra con gli elementi semplici della vita insomma il caffè, il pane fatto in casa quindi vedete come Larry Tawel contestualizzi sempre il soggetto, il punto di interesse che è evidentemente la ragazza, questa bimba in primo piano al centro del fotogramma quindi grande capacità di unire l'elemento estetico ma anche con l'elemento narrativo così come gli elementi in primo piano che insomma sono vedete perfettamente leggibili e danno chiarezza e forza comunicativa a tutta l'immagine questa immagine a doppia pagina, anche questa mi piace tantissimo anche questa se vogliamo è un po' sgrammaticata vedete la casa non è assolutamente in bolla, insomma è storta come orizzonte ma è bellissimo in primo piano il papà guardate anche poi le mani grandi delle mani di lavoro e la bimba sporca, i vestitini sporchi insomma come erano, ripeto, anche in Italia tanti anni fa nelle comunità rurali il vento che spazza via praticamente i capelli è bellissima, io la trovo estremamente poetica pur rimanendo cruda, rimanendo anche un po' così perché ci sono tanti elementi, insomma vedete elementi anche un po' sporchi a terra un po' faticente però è piena di poesia, insomma la composizione è molto molto forte soprattutto per niente scontata questa è una cosa importante della ritavola è uno spunto da cui possiamo imparare cioè di, ok, raccontiamo ma senza farlo in maniera scontata cioè cerchiamo anche di superare, insomma, i condizionamenti classici della composizione questa è un'altra foto che adoro paurosamente di Larry Tawell è bellissima le persone in realtà, mi sembra di aver letto che durante i momenti religiosi non potevano farsi riprendere quindi si sono sempre coperti con o le mani o con i cappelli come in questo caso ma tutto questo cappello è una forma particolare la posa della ragazza, della signora, insomma, ragazza è particolarmente fotogenica anche qui vedete l'orizzonte un po' storto un po' sgrammaticata l'immagine grande gioco di chiaroscuri si vede praticamente qui l'ombra del molino insomma della pala per il molino per il pozzo per l'acqua quindi sempre elementi in primo piano vedete sempre gioco di prospettiva, di profondità di immagine, quindi grande profondità d'immagine con diaframmi chiusi insomma, bellissima immagine dove ancora una volta c'è un racconto, c'è una narrazione ma c'è anche senso poetico ed estetica questa è un'altra foto che mi fa impazzire mi piace tantissimo lo trovo molto educativa su come creare un'immagine qui io ci vedo l'entropia un po' dei bimbi del gioco dei bimbi che è pieno di energia a volte disordinato insomma non è, come dire, rigoroso ortodosso, preciso come quello degli adulti e poi questo disordine tutte queste figure perfettamente leggibili e questa tridimensionalità come sempre vedete che ci ricorre sempre questo senso di prospettiva dal grande al più piccolo e questa triangolazione in qualche modo degli elementi ai margini del fotogramma è veramente stupendo è un modo di raccontare bello, molto bello non scontato la vita di questa comunità ma in generale è un modo di raccontare che ripeto non è affatto banale questo l'ho voluta inserire perché a parte essere una bellissima foto e anche qui insomma la vedete la diagonale qui li metti in primo piano però è una bellissima foto è un'immagine molto forte bianco sul nero ma anche la capacità di dare tavola e di farsi accettare completamente da questa comunità da queste persone questo ricorda un po' la frase di Kappa che diceva se è una buona foto non è così buona perché non eri abbastanza vicino non significa solo vicino come inquadratura ma anche vicino proprio avere un rapporto intimo profondo con quello che stai fotografando guardate questa foto come è ricca di contraddizioni ed è ancora più rafforzato da questo gioco di chiaroscuri quindi ci sono dei contrasti c'è l'animale che è stato ucciso per ragioni alimentari l'animale che invece è fonte di gioco quindi due dimensioni e quindi un contrasto fortissimo e contrasto anche nell'immagine foto veramente stupenda ripeto le foto di Larry Tawell sono interessanti per tante ragioni prima per la capacità appunto di riuscire a includere tanti elementi all'interno della composizione ma in maniera comunque strutturata in maniera che c'è sempre una relazione tra le parti e poi anche mettere in contrapposizione elementi molto prosaici con elementi più poetici più omitivi più emozionali quindi capacità incredibile assolutamente non scontata questa è un'altra foto che ho voluto inserire perché purtroppo racconta una parte della vita tristissima di questa comunità e non solo ovviamente la loro questo è il funerale di un bimbo stanno praticamente finendo insomma di preparare la bara ed è insomma fa capire come si è riuscito a entrare il rapporto pazzesco con gli abitanti di questa comunità fino a raccontare momenti così drammatici così intimi e nonostante ciò comunque di tenere fede a un certo equilibrio compositivo straordinario quindi avere quella forza quella lucidità che solo i grandi fotogiornalisti riescono ad avere nei momenti di così grande drammaticità questa è un'altra foto che anche essa racconta tanto abbiamo visto prima i bimbi che giocano ma anche i bimbi che lavorano cioè qui non c'è il lavoro minorile i bimbi devono dare la mano nei campi ed è guardata come è bella la composizione straordinaria insomma ancora una volta grande profondità di campo elemento in primo piano dinamicità nel movimento e poi elementi sempre più piccoli che danno prospettiva insomma veramente un occhio fantastico quello di Leritavo è una capacità di cogliere il momento straordinario questa foto veramente la trovo stupenda anche questo elemento rigido qui insomma molto forte una foto forte da puntista compositivo vedete ci sono diverse linee diverse geometrie ma poi insomma ancora una volta la capacità di raccontare ma in un modo assolutamente non di descalico eccoci tornati io spero che dal libro i meno niti di Leritavo insomma questo libro ti sia piaciuto sia stato fonte di qualche così qualche spunto di riflessione che poi lo scopo di questi video sono ripeto delle scintille insomma degli spunti per invitarci ad approfondire magari alcune cose viste o dette durante il video stesso è un libro che veramente vi consiglio e come sempre vi consiglio di studiare il lavoro degli altri autori sia dal punto di vista tecnico quindi come hanno composto l'immagine utilizzato la luce eccetera ma anche memorizzare insomma il modo di vedere il mondo e cercare di scoprire tramite le immagini degli altri quali sono gli elementi che sentiamo nostri quindi è tramite l'osservazione degli altri che possiamo capirci e capire qual è il nostro stile allora se questi video ti piacciono fammelo sapere lascia un commento metti un like al video magari condividilo se pensi che possa piacere ad altre persone iscriviti al canale se ancora non l'ho fatto ci vediamo al prossimo video